Noi ci troviamo al mare, come vedete qui siamo nella barca, nel commento capitancino del momento, è la barca, ecco qui noi ci troviamo, facciamo vedere bene la torre, ecco bravi, inquadri bene, ecco la torre, questa è un'isoletta, e noi ci troviamo adesso in barca, e niente. Questa è la parte 2 del blog, e niente ragazzi, quindi qua, parla di dove, facciamo, noi siamo appunto in barca, no, possiamo dire, ma c'è scritto sotto tanto che cambia, e beh non lo diciamo, comunque se mi venissero come vedete qui tutto spoglio, tutto spoglio, ci sono le foglie spoglio, capite, capite, poi ci sono, nuvole, i paio, i pesci, tanti pesci, i pesci, i fondali sono di 10 metri, incredibile, ci sono un botte di persone qua, però non possiamo, ecco un gabbiano, ecco infatti due ore di gabbiano estremo, perché devi fare un rosso di gabbiano, comunque ecco, poi ci troviamo, dove dite, ecco, non è che poco, ecco voi c'è un gabbiano, ho problemi con la telecamera, ecco, 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 a fuoco, come vedete rimane molto cristalline, ci stanno, ma, 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 guardi, guardi che bello, allora, abbiamo problemi, perché lui gira pure le cose, ecco la braccia, no, ma perché, basta, basta, dai, gli do un pugno, ecco, farlo di nuovo, comunque, questo è un faro, siamo a faro, cioè, ma, no, 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 li ci stanno di gabbiani, e niente comunque noi ringraziamo sempre, eh, i gabbiani, viva Gaby, scrivete i cani, e niente, qui invece ci troviamo, che è ha un faro ma è epico